Sì, è prima nonni o imperatori, nessuno lo saprà mai. Nei famosi giardini di Nikko, dove la famiglia imperiale nipponica ha accettato docilmente l'intrusione della macchina da presa, il nonno imperatore precede in patetica dolce passeggiata la moglie imperatrice, il principe ereditario Akihito, la principessa Michiko, preoccupato soprattutto di non perdersi l'erede, il piccolo Hiro. 2000 anni d'impero, gli eterni, favolosi raggi del sollevante non cambieranno mai la struttura mentale e umanissima di un vecchio nonno. L'imperatore cammina attento ai sospiri che vengono dalla carrozzina, il suo incedere è incerto, preoccupato, si ferma ad ogni passo, timoroso quasi di lasciare troppa distanza fra la sua imperiale ombra e il sorriso di Hiro. Anche in Giappone si è prima nonni e dopo imperatori, la legge degli affetti non bada alle corone.